ho già appoggiato si avvicini la seconda classificata al Bastia seconda classificata al Bastia premia il presidente del calcio femminile PGC regionale Giovanni Bonato bravi bravissimi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si avvicina il Massa Martana che vince Coppa Italia regionale Umbria. Giampiero Micciani, vicepresidente vicario del Comitato regionale Umbria, premia la prima classificata Massa Martana. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.